Beppe Pisani, presidente Federmoda Lombardia, siamo a Milano Unica nell'edizione di febbraio 2018, ancora una volta una grande edizione, tanta gente che è venuta e verrà anche a vedere questi ragazzi in questa iniziativa interessante, un'iniziativa che porta la creatività, l'ingegno di questi giovani usciti dai master delle scuole più prestigiosi italiane e li propone al mondo del lavoro. Quindi in bocca al loppo a tutti e grazie a Milano Unica. Grazie.